45esima giornata mondiale del turismo oggi 27 settembre lo abbiamo già preannunciato parleremo di turismo e di pace con federico massimo ceschin che ci ha raggiunto in studio stamattina di cui ecco di della cui presenza sono particolarmente grato buongiorno federico benvenuto buongiorno a te buongiorno ai nostri ascoltatori federico presidente di simtur founder di turismica un consulente formatore molto molto altro e che si occupa di turismo potremmo dire da sempre oggi è qui per ecco aiutarci a guardare il turismo anche da un altro punto di vista perché l'onu ha scelto quest'anno di associare alla parola turismo anche la parola pace e direi scelta quanto mai opportuna federico quanto mai opportuna non solo per le vicende che ci circondano anche perché ormai siamo incamminati verso il giubileo e quindi diciamo il tema della pace non è soltanto giusto ma è anche un sussidio diciamo un prologo io spero anche di una pastorale del turismo sempre più presente nella nella società civile abbiamo bisogno di educazione abbiamo bisogno di formazione abbiamo bisogno di recuperare quella via della pace attraverso parole che il turismo e diciamo la 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 chiesa condividono per esempio come accoglienza come ospitalità e per questa via fratellanza cioè il viaggio è sempre un viaggio di scoperta è un viaggio di scoperta dei luoghi è un viaggio di scoperta delle comunità è un viaggio di scoperta di incontro di confronto di conoscenza con le persone e da per questa via di valorizzazione delle differenze allora le differenze non sono più conflitto ma sono pace ora può sembrare tutto molto retorico tutto molto aulico tutto molto troppo fiducioso troppo però ogni giorno che lavoriamo in questa direzione è un giorno nel quale possiamo andare a dormire diciamo sereni ogni giorno in cui retrocediamo rispetto a questo percorso è un giorno triste sono assolutamente d'accordo con te perché poi ecco anche questi grandi temi noi lo diciamo spesso anche quando parliamo di sostenibilità nel programma di approfondimento del lunedì in realtà vanno e possono essere concretizzati anche attraverso piccoli gesti nel quotidiano che però fanno la differenza e nel turismo che è una dimensione appunto dove si intrecciano due mondi quello di chi accoglie quello di chi visita tutto questo non solo è possibile ma necessario è possibile necessario e soprattutto almeno diciamo nel nostro mondo perché poi se guardiamo a tutto il pianeta diventa diversa potrebbe essere diverso il ragionamento ma noi veniamo dalla cultura romana che già dal punto di vista dell'architettura divideva la propria domus tra la parte dedicata all'ospitalità che era un dono alla parte invece riservata all'accoglienza e quindi la parte di ospitalità aperta a tutti e la parte di accoglienza invece riservata agli ospiti che erano appunto le persone invitate a varcare una determinata soglia e poi con la storia della chiesa che naturalmente non ha influito poco nell'occidente è la radice che ha consentito all'europa di essere un continente tutto sommato di pace e quindi ecco che in un mondo ricco di conflitti da qui e da questi luoghi in particolare da san giovanni rotondo da pietrelcina da roma naturalmente possono partire messaggi che vanno che vanno in questa direzione che fanno capire come quel quell'esperienza di sostenibilità che ci insegna che ogni piccola azione può cambiare il mondo a volte anche un sorriso a volte anche una stretta di mano un abbraccio un ritorno a un'accoglienza che abbia davvero un valore di fratellanza può essere un messaggio nei confronti del turista vogliamo chiamarlo così io preferisco visitatore colui quale ci viene in visita viene a visitarci viene a visitare i nostri luoghi viene a visitare casa nostra noi abbiamo l'obbligo diciamo di essere ospitali accoglienti e più possibile fraterni grazie federico è sempre un piacere dialogare con te non per nulla ti abbiamo chiesto di collaborare e in maniera più costante proprio con la regola della sostenibilità una collaborazione che già partita ecco in conclusione ti chiederei appunto proprio che cos'è sim tour di cui sei presidente è appunto come svolge il suo ruolo nell'ottica di un turismo migliore ma intanto ti ringrazio moltissimo per questa domanda sim tour è un'associazione nazionale nata nel 2019 in forza della legge 4 2013 e quindi adesso abbiamo detto la parte formale è una parte un'associazione che accompagna i territori e quindi i protagonisti dei territori siano essi pubblici o privati in percorsi di qualificazione dell'offerta in funzione però di un attento studio della domanda quindi è un orientamento nuovo al turismo che non si fonda sull'offerta ma si fonda sull'economia dei visitatori ovvero proprio sulla capacità io potrei anche dire ecologia dei visitatori quindi sulla relazione tra comunità locali e comunità sempre più interconnesse sempre più vivaci diciamo e capaci di trasmissione una volta c'era il passaparola oggi ci sono le recensioni online insomma in un mondo che cambia abbiamo bisogno di abbandonare i paradigmi produttivisti potremmo dire del novecento e cominciare a comprendere che una comunità locale che vive bene può essere una comunità locale più aperta più accogliente più ospitale e per questa via generare un'economia e un'ecologia delle relazioni molto fertile per i luoghi e per i paesaggi e per come dicevamo prima per questa via per l'intera umanità e noi è su in questa strada che vogliamo camminare per cui grazie per aver gettato appunto una luce su questo percorso virtuoso l'appuntamento quindi è a presto sulla regola della sostenibilità intanto davvero grazie di cuore grazie sempre a te a voi linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità grazie a te a voi linea alla regia e ci ritroviamo subito